Le Cultures sigla il primo accordo pluriennale con la comunità montana della Valsassina. Per il suo progetto IRIDE finalizzato all'integrazione dei minori stranieri nel percorso scolastico non era più sufficiente il bando che vinceva annualmente dal 2000. Serviva un accordo pluriennale per poter agire in modo più lungimirante e concreto. Perché intervenire nelle scuole anno per anno con un blocco di ore definito che casomai quell'anno può essere troppo e l'anno dopo può essere poco è sbagliato. Bisogna avere un respiro lungo, progettare a lungo, vedere a lungo. Non si deve pensare che dopo le ondate migratorie dei primi tempi non ci sia adesso il fenomeno dei minori nelle scuole. Dalle parole ai fatti, il grande passo avanti è reso possibile dalla riforma del terzo settore e dai successivi decreti attuativi, decisivo quello emanato quest'anno con le linee guida sul rapporto tra pubblica amministrazione ed enti del terzo settore. Non più un ente, una istituzione che affida la gestione di un servizio a un'associazione ma ente, istituzione e terzo settore progettono assieme. Insieme condividono la responsabilità, insieme cercano le risorse e si supera anche un livello veramente molto errato di considerare economico l'affidamento di un bando a chi costa meno. Perché quando si parla di risposta a problemi sociali la qualità conta molto non soltanto la quantità ma la qualità del servizio erogato.